ciao a tutti ragazzi vi ricordate il fatto di fanapton lo youtuber famoso allora volevo dirvi una cosa io andando a parlare con lui ovviamente su il suo canale youtube si è parlato live e abbiamo parlato del più e meno abbiamo chiarito e all'ultimo lo sapete cosa ha fatto nei commenti ha continuato ad insultarmi cioè dopo la live dopo il chiarimento nei commenti ha iniziato a dire che io ho problemi che io ho fatto i domiciliari che ho fatto il carcere perché su cose che non sono vere ha detto cose che non sono vere allora del fatto dei domiciliari si è vero e l'ho detto anch'io che lo poteva dire ma io non ho detto che lui poteva dire i fatti personali cioè i miei fatti personali non le doveva dire l'unica cosa che io voglio dire a tutti perché vi voglio fare capire io vi ho sempre detto a tutti che potete prendere tutti i miei video potete fare reaction sul mio canale potete fare qualunque cosa sul mio canale ma io non ho detto di dire quello che io ho detto a voi in privato ovviamente i fatti personali ogni persona vuole i fatti personali per sé non vuole che gli altri le vanno a diffondere perché questa cosa diffondendo i fatti personali potrebbe creare un problema allo youtuber o un problema alla persona stessa perché le persone lo insulterebbero lo tratterebbero male non lo considererebbero più e tante altre cose e anche cose più gravi potrete creare con questa cosa qui che state facendo non è giusto che le persone vanno a raccontare i miei fatti personali agli altri o anche anche gli altri persone non è giusto che le persone vanno a raccontare i fatti personali degli altri ognuno che sa i fatti personali devono rimanere fra loro non le dovete dire a nessuno i fatti personali e comunque ragazzi dopo questo è successo un problema ora ci sono tanti tanti altri youtuber contro di me perché tutti stanno iniziando a dire che io mando troppi messaggi io ho molti fan e allora comunque la cosa la questione è questa che io ho molti fan e non possono mandare messaggi a tutti quindi io non mi posso mettere a scegliere a chi mandare i messaggi o a chi non mandare i messaggi io messaggi le mando in automatico a tutti in tutti i social whatsapp facebook instagram e tiktok ovunque io messaggi le mando in automatico a tutti e a me questa opinione questa cosa non me la fate cambiare poi volevo dire anche una cosa tutti i social dovrebbero togliere la segnalazione per spam perché questa cosa è una cosa inutile segnalazione per spam è inutile anche perché se no cosa mettano nei video condividi condividi vuol dire per condividere e questa cosa è diventa così però io dico che tutti i social devono togliere le segnalazioni per spam e poi un'altra cosa volevo dire che purtroppo le persone non stanno capendo quello che dico perché le persone stanno andando dietro a fanapton e gli altri youtuber che sono contro di me e tutti mi stanno venendo contro su una cosa che io non ho fatto cioè poi è fanapton che ha iniziato questa cosa perché lui nella live poteva evitare di parlare di me poteva direttamente chiamarmi a cellulare visto che il mio numero ce l'aveva e poteva chiamarmi al mio cellulare perché lui ha voluto diffondere che lui non parla più con me su youtube non è giusto bastava che me lo dicesse e si era a posto invece no l'ha voluto dire su youtube accanto a un pubblico di tante persone e dire che non parlava con me e tante altre cose questa cosa non va bene questa cosa non va assolutamente bene lui ha fatto una cosa che ha creato molti problemi nei miei confronti ma molti e comunque volevo dire che io nico livorno 1 io nico livorno 1 mi difendo sia da youtuber e sia da persona io mi difendo e non non vado dietro a quello che dicano le persone ora basta ora io sono cambiato sinceramente non mi tiro più indietro sulle cose anzi vado avanti perché la situazione deve diventare così deve cambiare deve diventare una situazione più carina perché questa situazione a me non mi piace mi sono ritrovato in una situazione di persone famose che mi stanno venendo contro e io non ho fatto assolutamente niente niente comunque persone voglio darvi anche a voi una lezione vi volevo dire persone se volete venire a lavorare su youtube o su qualunque social se volete lavorare in tutti i social vi volevo dire che troverete molte persone un giorno quando sarete famosi contro di voi e voi dovete ovviamente rispondere con gentilezza educatezza come sto facendo io e non tirarvi indietro anzi persone quando le persone vi dicano qualcosa di sbagliato voi continuate sempre non vi tirate indietro continuate sempre se vi dicano chiudete il canale voi non lo fate assolutamente perché state per diventare famosi e le persone sono contro di voi e vogliono che voi voi perdete tutto voi continuate continuate per il vostro lavoro perché voi siete bravi non state ad ascoltare gli altri questo è quello che volevo dire comunque io vado sempre avanti e ci vediamo anzi andate a vedere i video precedenti che ho fatto di fanapton non i video che ho fatto dove parlo di questa cosa qui dei messaggi ho fatto tanti video in questi giorni andateli tutti a vedere ripassateli guardateli perché io voglio dire una cosa tutti gli haters e anche gli youtuber che mi vengano contro devono farsi un esame di coscienza comunque ciao a tutti un unico liborno di coscienza